Se io incomincio a decidere di investire in immobili e se ho bisogno di partire con un business, non ho mai guadagnato soldi, ho sempre solo fatto il dipendente, non ho entrate automatiche, il mio business plan o la mia situazione finanziaria fa schifo, quello che posso fare è incominciare a dire, ok, ma che cosa devo fare specificatamente? E a questo punto ci sono quattro fasi. La prima fase è quella che io chiamo di start up o inizio, cioè da una parte devo iniziare, ok? Quindi scopro che esistono dei metodi per far soldi, scopro che ci sono delle persone che diventano ricche più velocemente degli altri. Una volta che so e che parto, poi copio. Che cosa vuol dire copiare? Vuol dire che c'è qualcuno e cerco di fare come fa lui. Una volta che ho copiato per abbastanza tempo, a questo punto personalizzo, o adatto, e a un certo punto, inevitabilmente, arriverà la crisi. Arriverà che ho imparato quello che c'era da imparare e a questo punto avrò la crisi perché dovrò passare ad un altro livello. E l'altro livello, indovinate cosa succede? Riparte dall'inizio.